Villa Sturzo, 13 febbraio 2016. Fra poco, fra pochi minuti, inizierà una riflessione dedicata alla bellezza della croce, una riflessione teologica e spirituale in preparazione alla Santa Pasqua. Don Francesco Brancato e Don Andrea Dall'Asta terranno questa conversazione attorno ad uno dei temi più tragici della nostra epoca, la bellezza della croce. Come può essere fondamento di bellezza un simbolo che è stato di sofferenza per Cristo e per l'umanità? Nel libro La Croce e il Volto, di Ancora, che presento stasera e il cui tema centrale, proprio la bellezza della croce, vuole ripercorrere due assi fondamentali della storia dell'arte dell'Occidente. La prima che vede la bellezza come gloria. E quando abbiamo in mente le opere di Raffaello, di Michelangelo, immediatamente pensiamo al Cristo glorioso. La bellezza di Dio si rivela anche sulla croce attraverso la sua gloria, la sua divinità, la sua trascendenza. Si rivela attraverso il corpo glorioso. E in questo senso ricordiamo come i primi cristiani non rappresentavano la croce nella sua troce bruttezza, ma al contrario nella sua sublime bellezza. E le prime rappresentazioni sono proprio croci gemmate, vale a dire croci di gloria. È la bellezza di un corpo risorto. Il secondo asse, invece, riprende la bellezza come kenosi, vale a dire come svuotamento. E la bellezza di Dio non è riferita al corpo glorioso, alla bellezza armonica, così come il Rinascimento aveva potuto rappresentare. Ma al contrario, la bellezza assume un fondamento etico. E pensiamo semplicemente alla bellissima crocifissione di Grünevald, in cui Cristo viene rappresentato in tutta la sua drammaticità. La bellezza qui diventa offerta, diventa responsabilità etica, diventa la bellezza di un dono. Non è un qualche cosa di formale, ma diventa la possibilità da parte di un uomo di donare la propria vita per la salvezza dell'umanità. Ed è proprio questo asse che il Novecento riprende attraverso alcune rappresentazioni di Cristo, come per esempio da Rotluf a Egon Schiele, da Pirandello a Guttuso, in cui si sottolinea proprio questo carattere etico della croce, di Dio che si dona in Cristo. E non solo attraverso la rappresentazione della croce, ma anche grazie a quelle che vengono chiamate figure Cristi, vale a dire a tutte quelle persone che la cui vita è sottesa dall'esperienza di Cristo. Così come per esempio è stato fatto in tantissimi film, quando noi vediamo i film da Fellini a Clint Eastwood, in realtà non pensiamo che come la trama invisibile che sottende questi film sia proprio l'esperienza della croce. In un'Europa laicizzata, quale valore può assumere lo spirito di sacrificio di Cristo e del suo gesto e del simbolo che rappresenta la croce? In un'Europa laicizzata, credo che quello che disse Natalia Giesburg sia estremamente attuale. Per il cristiano è simbolo della fede. Tanto è vero che quando noi facciamo il segno della croce, il segno della croce per il cristiano è segno della propria identità, è simbolo dell'identità cristiana. Ma per una persona, per un laico, per una persona che non professa la nominazione cristiana, credo che possa diventare un simbolo di amore e di dolore. Di dolore, nel senso che in quell'uomo possono essere iscritti o iscritte tutte le tragedie della storia, possono essere espresse tutte le occasioni in cui l'uomo uccide l'altro fratello non comprendendo il non senso della violenza. E dall'altro lato, simbolo di amore, in quanto solo attraverso il dono della propria vita si può tagliare, interrompere, quella spirale della violenza che, come ci ha insegnato la storia, conduce solo alla morte. Al contrario di essere un simbolo solo cristiano, penso che la croce sia un simbolo assolutamente universale che possa parlare a tutti. Don Andrea, un'ultimissima domanda. Il grande momento del dialogo che c'è nella Chiesa tra ortodossi e cattolici di questi giorni che abbiamo vissuto in diretta da Cuba. E' questo un segno di una fraternità che non possiamo non considerare. E' scandaloso che all'interno della Chiesa ci possano essere divisioni. E quello che sta facendo Chirille e Papa Francesco sono due momenti eccezionali, segno di una fraternità che va necessariamente approfondita, anche se non mancano difficoltà, come è stato sottolineato più volte. tuttavia si tratta di un primo passo verso una comunione. Così come Papa Francesco sta cercando di attuare e di vivere con tutto il mondo protestante. Un segno di comunione senza la quale la Chiesa non può essere comunione nel corpo di Cristo. La ringrazio Don Andrea Dallasta per questo intervento. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.